Deve essere alta, più alta Ancora più alta Ora va meglio Non ti voltare mentre palleggi Non ti voltare mentre palleggi Veloce la rincorso in aria No Prendere il braccio Fai bene la rincorso Andare sopra la rete Pingi l'attrezzo Sei veloce Non è il problema di non arrivare sulla falla Salta Stai andando in avanti in lungo Non serve a un cazzo Questo va bene Elisa Più vicino alla riga Perché devi stare al centro del campo Quando mai fare un'alzata al centro del campo O dal centro del campo all'aspate Quando gioco Oltre di cui io mai Ok? Perfetto Soltanto alza d'aperta Veloce la rincorso Un buon errore Non solo metto da prima Ok Questo va benissimo Sei troppo in anticipo di l'onore Velocizza l'incorso E salta in alto Molto bene E andrea Hai partito un'ora e mezzo prima Clara Non serve Molto bene L'onora Mare Smetti di andare indietro Dopo che lanci il pallone È inutile Non saltare in lungo Devi saltare in alto E dare col braccio No Ilaria Va a far culo Si è fermata sulla posizione Ma Voi Eh No Parti Bello Aspetta il pallone Non c'è la palleggiatrice Ci sta che vale uno di un metro Queste alzate No Si si Non da neanche un bar Non c'è la pallone Ah Sono l'altro da tre Fate andare il salto Il salto serve qua No Scusa Se fai le cose perpendicolari L'onora è finito No Non c'è la pallone No No Non c'è la pallone Non ti misura le gambe Salto in alto No Non ci credo Perché hai la parola Ora va molto bene Perché Preparati Francesco La gestisce Gioca a beach volley O almeno dovrebbe O almeno dovrebbe Ora va molto meglio Però c'è ancora la palla dietro Io no Salta in alto Non saltare A più Fino avanti No E' la Non si è pronta Quindi una merda Lo sapete Si vede prima Che inizia l'attacco Ora va molto meglio Solo alzata uno Metti a filo rete Metti a filo rete Fino rete Fino rete Sì E gli tieni le palle Sua tua testa A mezza Ok Non saltare in lungo Clara Salta in alto Più di col braccio Non rallentare la rincorsa Leonora Vai Una volta che parti Devi andare per forza No Non rallentare la rincorsa Non portarti in volo Questa è più alta Non cerca Se sei troppo distante Da rete Io non so Nella tua testa Quando ti senti alta Ma sei alta Un mezzo Un po' reale Una volta che parti Vai a cannone Sennò ti si abbassa la palla Questa è troppo alta Dai Prova la rincorsa Puoi fare C'è la rincorsa Troppo lenta Francesca Salta Ora va molto meglio Cambio a giocoro Diventa a cane Così Se fare un cazzo Vabbè Però Solo palletto Solo palletto Solo vicina Solo vicina Andiamo Vicina Spendere il tempo Ragazzi Una palla vicina Lisa Fai la rincorsa All'ultimo Non passeggiare Sotto la palla Fai la rincorsa Ancora in anticipo Francesca No Non c'è la rincorsa Non tirarla sotto il braccio Non c'è la rincorsa Non saltare male Fa schifo Salta Un lungo Un lungo Un lungo Un lungo Un lungo Francesca Vai in alto Siamo solo i polpacci Sotto va Cambio Ok, in alto, salta in alto, vai in alto, guarda l'alzata e puoi farlo, dove cade, in alto, e l'alzata è lì, ancora più adesso, aspetta a partire, esatto, allora vorrei fare che tu la facessi veloce, e risalta in alto non ci dare il colpo di polso solo alto no si torna ad attaccare come prima Francesca aspetta a partire male è inutile aspettala Eleonora Eleonora devi aprirti di più non hai rincorso l'attacco non hai rincorso l'attacco non hai rincorso l'attacco non hai rincorso l'attacco vedi che tutti vanno fuori dalla riga per fare rincorso tu fai dentro la riga e poi ancora più dentro è di veloce la rincorso l'attacco salto alto massimale no non in lungo girando il culo alto dritta con la schiena e chiudi il polso solo alto da tre scusate le gambe dai è sotto la palla Eleonora ancora è passato in corso per finire il polso si abbassa c'è scala all'arga felicità nel corso non hai rincorso parla di calda salta in alto la parla si dà molto delicious sto? li ho palato più su sul troppo alto rallenta ancora vevi di più Clara questo è perfetto grava è troppo in anticipo fa l'incorso all'alentatore aspetta la Francesca e fa il salto sul posto non saltare in lungo falla all'ultimo non preferisco questo ha un senso se non devi mettere la palla a filo tutte le volte stai saltando con la pancia in fondo stai sulla posizione solo alza da uno con le gambe si fa l'alza da uno e mi ripeto mi fanno con le gambe non stare trattenuto e brutta nel pallone questo fa qua guarda a piedi la sacola infatti questo per chiudere tieni la dritta e la buona no non la spalla questo per richiamare salta c'è forse lo so per farlo eh c'è pure che mi impegno non so non so non so sei famosa per i prodotti di velocità eh per l'anticipo ah allora vado a partire l'anticipo eh vado a partire l'anticipo ma ti piace va se proprio parti sotto le non spaggio se c'è sottruzzo ma cazzo no allora non partiamo l'anticipo devi essere così allora non lo capisci ah veloce veloce ora tu stai facendo il tuo salto dove parte la rinforza è quello che si fa la diversa da quella che ti aspetta perché tu hai una lungosta di tre minuti ok e tu c'è il mello tu fai due i miei due i venti e quaranta in salto è lungo ok tu devi fare tre metri di pulipesi fine una volta che sei in volo tu salti da terra e qua fine perché te il francesco ti ha da fare questo velocizzate spezzate l'ultima parte così per essere più veloce ed è il mio ultimo che si fa attaccare di fronte vedi ancora indietro così attacca perché si va in tante in avanti sulla posizione e salta in avanti cambia il tricio si grazie molto meglio quindi adesso torniamo con vicino vicino bello salta in lungo vai sotto il pallone attacca vicino fare il salto stanno scendendo sulla tua spalla destra quella vicina anche staccati da dentro non è un pole un voltare aprendo il bacino ok questo è bellissimo piega bene la gamma frontale sta in equilibrio è sotto la palla non ci metti forza nell'attacco buona melona bravo questo va bene non ci metti forza ma 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 non ci metti forza è guai come quell'altro oh li vanno spaccati sti palloni non vanno appoggiati vicino non serve a niente no sono giuste loro partono prima sono delle piffe saltate in alto è lungo di nuovo l'enora vedi che a terra è così per forza sai perché? Mila non hai piegato mai le gambe sta intorno a di punto al campo faccio un metro da taglio e vengo da taglio ok è brava un po' non saltare in lungo però la vicina è quella lì o no? no è aperta? no è il suo lo tenere il posto a retto è così perché io mi do un metro da atto è giusto l'altro è giusto l'altro è stata aperta ancora? no ah di tanti che ti fa questo non è più scelta se tu altavi sul piede solo sei in equilibrio sto spientando in avanti molto bene Francesca va bellissimo questa si verrà come che si voltasse e saltasse oh adesso un corpo veloce che ruota è giusto però non devi voltare la spalla scarica il braccio no oh Eleonora fai la ricorcia sul filo della riga perpendicula no non puoi attaccare la scelta non puoi attaccare non puoi attaccare la scelta non puoi attaccare attaccare non puoi attaccare questo va già meglio devi uscire dalla riga per tagliare la riga va meglio se lo scelte la ricorso ancora di più no no non da virti per fare questo perché non ha la spalla questo va mille volte meglio allora dove si chiamare la coordinazione e le sali da pagliere solo l'alzo da tre dai su di cina Francesco no 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 Grazie. 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 Ok. e non è che schifo io sono partita sei anni prima vai 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 troppo è troppo Elisa guarda la palla come esce ora sta vicino e il tempo è valutata stai saltando in lungo la gambe aperte stai saltando guarda mia l'accelerazione è giusta è tuttavia saltando sul piede sull'aria questa è la bassa in posizione solo alzo d'aperta non tanto ma non tanto si schiacciano i palloni vi lascia che non stendisi non meglio non meglio nonno nonno la pesta è in posse poi non lo so non è non questo giù di la schiena invece di spiegare le gambe non affidare abbassa la gamba come la ponte ancora giù la schiena non c'è spazio mi stare con la schiena che vuole accortare di essere in posse ho mai guarda guarda aiutare guarda 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 stai facendo di merda stai saltandola qui va armela qui lì lì sono io che sto vivendo là ah no è una cosa diversa Sì, è un po' diverso. 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 E' un po' diverso. Sì, è 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 un po'. Non è un po' diverso. Non è un po' diverso. Sì, 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 è un po' diverso. Ok. Sì, è un po' diverso. Non è un po' diverso. Sì, è un po' diverso. Sì, è un po' diverso. Non è un po' diverso. Non è un po' diverso. Non è un po' diverso. No, non è un po' diverso. No, non è un po' diverso. 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 Ah! Che palle! Balla! Mettiti in testa. Se tu attacchi vai un po' del pallone. Ti metti un po' forza. È come dare un pugno allontanandosi. Sotto allontanandosi. La rincorza di Staccaipi da terra. Sono allontanandosi da uno. Vedi, essere veloce lo vuol dire. Se no fare sempre questo risultato. e poi this testa. Di passare un'azienda. Non è un po' di risultato. Non è un po' di risultato. Non è interchangeabile! Non ritrovare le gambe. Non è un po' di risultato. Sotto allontanare. Non lo mandare contro la rinca. Non lo ricon чтобы la base. È un po' di risultato. Adesso, si fa l'azienda. Ok, questo è perfetto. Tieni la 1 e la 1. Vai! No, non vi lanciare. Ma non uguale, lei si deve adattare a lanciare. Non è dapposti. Sto. Ok, torta. Grazie a tutti